Sono Alfio Galatà, nell'ambito della settimana della domotica, in questo terzo giorno, presentiamo il progetto VeriSchool, che è un progetto cofinanziato dalla comunità europea nell'ambito del programma Competitive and Innovative Program, CIP. Il progetto VeriSchool è un progetto dimostrativo che ha come obiettivo principale lo sviluppo di un navigatore energetico, cioè di uno strumento decisionale, che assista tutti gli attori nell'intera catena, dal management, da chi prende le decisioni, a chi li esegue e a chi si occupa della conduzione degli impianti, per l'attuazione di un efficace ed efficiente programma di gestione dell'energia, in accordo con la norma internazionale ISO 500001. Il progetto è costituito da un consorzio internazionale di 12 partner e dimostrerà i risultati in quattro edifici piloti, due in Italia, uno all'ESA e uno a Genova, uno in Portogallo e uno in Bulgaria. Il processo di validazione di questi risultati avverrà utilizzando il protocollo IPV-MVP, molto complicato solo per tecnici, e nel rispetto della norma ISO 500001. Il progetto ha una durata di tre anni, siamo alla prima fase, al primo anno dello sviluppo, ed è previsto il secondo programma, che questo sviluppo venga completato entro maggio 2013, per avviare tutte le attività dimostrative e di predazione dei risultati nella seconda parte del progetto.